Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi vi presento i miei nuovissimi freni Hope V4 Limited Edition 2022 Questi freni Hope sono un'edizione limitata per il loro bellissimo colore platino con i dettagli viola che riprendono i dischi Le varie regolazioni con due rotelline rispetto ad altri freni che una serve per regolare il distanziamento dalla leva alla manopola E la seconda rotellina serve per regolare il ritorno della leva quindi più lento e più veloce come la forcella in pratica Abbiamo tubi aeronautici con interno l'olio DOT 5 di Hope Pastigli in questo caso sia l'anteriore che il posteriore montiamo delle galfer per e-bike pasta viola Grazie a tutti Grazie a tutti